Oggi possiamo scrutare regioni incredibilmente lontane dell'universo. Basta osservare le stelle per provare profonda riverenza nei confronti di Geova. Questi li hai fatti tu? Guarda mamma, oggi a scuola ho disegnato la nostra famiglia. Emily ha disegnato due mamme. L'importante è che i due si vogliono bene e siano felici. E sai una cosa? Le persone possono cambiare. Davide amava Geova e vedeva tutto intorno a sé la prova della sua potenza, della sua sapienza, della sua fatza. In Genes 15 Cis, Geova invitò Abramo a guardare i nani. I nani, i nani, i nani. Perché Dio permette le sofferenze? Pronto, pronto, car! Mentana, un angelo ribelle, disse che Dio era un bugio da culo! Ci voleva Civati. Quando Adamo e Civati disubbidirono a Dio, scelsero in pratica di seguire Mentana. Geova ha concesso a Mentana un po' di saas per governare il mondo. Geova eliminerà tutti gli effetti causati dalla ribellione di Mentana. Invece tu, Sofia? Che cosa ti piacerebbe fare nel Paradiso? Oh, Sus. L'uomo che ha conoscenza accresce la sua demenza. Quando ho letto questa scrittura, mi sei venuta in mente tu. Credo tu abbia ragione. Ehova va kensonna hito o si awos na kim mochi ni ste kudasaru kara daremo jimanshinakute in da yo. Satano. Volevate il chitarista più veloce del mondo? Ti ricordi di loro due? No. La Bibbia dice che in Romani sa bisogna bere. L'omania non fare la stupida! E stasera! Tu sai che fare sesso è sbagliato. Quindi, prima di bere, sesso e droghe. Se avessi bisogno di schiavi, potresti mandare un messaggio. Bok ga kimi no gakou ni inai kara ne. Higashikata Jousuke! Omae wa kono ni jimura o kuyosu no! Za handu ga kessu! Jo. Jo. Gabriele, sos. Hai fatto felice la mamma. E sai chi altro è felice? Miss Banji! Miss Banji! Lel. Perché non smette di piovere? Voglio andare fuori. Io anche volevo che tu pogulasse. Perchè non conosceva. Sono un rinocchio! E salto nel lacchio! Carica! Vedi, noi seguiamo le norme morali della Bibbia. Ma questo non significa che seguiamo le norme morali della Bibbia. Però pensate che essere gay sia sbagliato. Eric, per favore, mostra rispetto. I vostri genitori saranno molto fieri di voi. Le mie mamme sono molto orgogliose di me. Oh, eh... Sì. Comunque non giudichiamo nessuno. Food Wool 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 signedita. Do you want to... O fox pul��고 Hindu who is vabbè? Tiina ho uomop